In soli quattro mesi si è esaurita la seconda tranche di incentivi rivolti ai residenti del Comune di Parma per l'acquisto di e-bike ed e-bike dotate di rimorchio, che, sommata all'edizione dell'anno scorso, ha portato oltre 1.000 nuove biciclette elettriche in città. L'importo totale stanziato dal Comune di Parma insieme a Infomobility nelle due edizioni è stato pari a 417.000 euro. Nel mese di agosto Infomobility provvederà ad effettuare i bonifici delle ultime domande accolte per la richiesta dell'incentivo l'iniziativa del 2023 si era conclusa con l'incentivazione all'acquisto di circa 500 biciclette elettriche. Lo scorso marzo si è aperta la seconda tranche dell'iniziativa che ha incentivato l'acquisto di ulteriori 545 nuove e-bike e 7 e-bike con rimorchio, con un contributo più consistente, passato da 300 a 500 euro per l'acquisto dell'e-bike e da 500 a 700 euro per l'acquisto di un'e-bike dotata di rimorchio.